Ciao a tutti ragazzi, benvenuti! L'ospite di oggi è Tito Faraci, uno sceneggiatore, uno scrittore, un tastierista, un paroliere, un traduttore e adesso è un curatore editoriale, insomma adesso da qualche anno un curatore editoriale è il curatore di Fertrinelli Comics, ha fatto la storia della sceneggiatura a fumetti in Italia e quindi ho deciso di affrontare insieme a lui questo argomento e chissà quanti altri argomenti perché lui ha veramente tante robe da raccontare, quindi non perderei altro tempo e lo invito qua sul canale, ma prima di questo ovviamente ragazzi, sigla! Ciao Tito, benvenuto, grazie! Grazie, grazie! Allora Tito, io ti introduco un po' perché ti hai lavorato un po' per tutto Topolino, P.K., Dylan Dogg, Martin Mister, Zagor, poi Lupo Alberto, Diabolic, Spider-Man, Darth Vader insomma Tito, ne hai fatte di tutti i colori io mi ricordo una tua storia che veniva pubblicata per, mi pare, Buena Vista Comics era una raccolta di queste storie deluxe che era, come si chiamava, oddio mi ho in mente era una storia, l'ultima battaglia l'ultima battaglia che era scritto con nella sbatto che poi era stata ripubblicata in America dall'Image e l'anno che l'hanno pubblicata in America, momento vanità, concedetemi quando l'ha ripubblicata in America, l'Image è stata quel mese il terzo fumetto più venduto in America io mi ricordo nitidamente nell'ultima battaglia per una battuta fantastica che era il balloon della freccia, dove la freccia era un'estensione del corpo umano era una cosa che mi stupì molto, no? che dovevi entrare nella freccia per raggiungere il bersaglio era molto molto figa come cosa però io ti ho conosciuto con Topolino e soprattutto, l'ho raccontato anche a te ma te lo sarei sicuramente scordato perché eravamo una fiera nel delirio però io ti ho era notte fonda era notte fonda, erano ubriachi mi ricordo i contesti era il comic con, c'era anche Sio è giusto che i tuoi spettatori lo sappiano era notte fonda e avevamo consumato degli alcolici no, ecco, io per esempio questi dettagli non li hai messo allora, mi hai preso così, di contropiede non lo sapevo, sì, comunque sì poi a un certo punto Sio ci siamo messi a fare il wrestling mi pare sul... sì, infatti c'è stato un momento qui ho fatto l'arbitro e delle persone fra cui sì io credo Daniele Fabri avete fatto un combattimento di wrestling su un ring un vero ring che non so cosa ci facesse lì lo mettono sempre al comico, né? lì nel mezzo, sempre no, no, ma quelli in realtà ci sono io che faccio questi match fra disegnatori però invece vi siete battuti io ho fatto l'arbitro urlando ed erano tipo le 3 del mattino vabbè comunque a parte il wrestling io ti raccontai che io capii che Topolino non era perché ero molto piccolo però ovviamente dietro dietro Topolino no, vabbè sì, ora non voglio darti assolutamente dell'anziano dopo un po' ti racconto come va vai, vai, va bene io mi ricordo che leggevo Topolino e come tutti i bambini credevo che fosse quasi una sorta di algoritmo, no? e invece poi scopri che c'erano dei disegnatori delle sceneggiatori e tutti avevano un linguaggio diverso non c'era una Bibbia ma comunque molti inserivano della propria autorialità dentro alle storie e mi ricordo molto bene che riconobbi per la prima volta l'autorialità su Topolino grazie a te perché lessi una storia di ciccio questa storia era divertentissima molto più divertente delle altre storie che avevo letto abitualmente su Topolino e mi dissi ma cazzo ma quindi esiste un linguaggio ben preciso di ogni autore anche se si parla di personaggi inventati da altri e iniziai a capire che c'era una scuola di fumettisti italiani che poi vengono venduti in tutto il mondo anzi la scuola italiana insegna a tutto il mondo per quanto riguarda i personaggi della banda Disney diciamo così è una cosa che si sa anche poco ma cioè nel senso si sa tanto ma noi fumettisti tendiamo a darla per scontate quindi automatizzare questa cosa però ogni tanto è giusto dirlo perché qualcuno casca un po' dalle nuvole oltre il 75% delle storie Disney lette nel mondo pubblicate nel mondo sono storie che vengono scritte e disegnate in Italia cioè personaggi come Paperinic Tudy Brigitta il maggior domo di Paperone Battista tantissimi personaggi sono personaggi inventati in Italia io stesso solamente grazie a Disney ho pubblicato in 22 paesi del mondo cosa che se facessi qualunque altro tipo di attività ma anche regista di film cioè non è che voglio dire arrivare a 22 è veramente quindi abbiamo una grossa responsabilità no è bello anche vedere magari PK pubblicato con The Duck Avenger in America fa sempre un gran piacere e sì sì insomma io mi informai molto su questa cosa c'è anche un libro bellissimo ovviamente mai pubblicato in Italia dove si racconta appunto c'è proprio un archivio di tutti i fumetti stampati realizzati in Italia che sono andati all'estero ma quel libro purtroppo non è mai arrivato qua c'è solo l'inglese me lo sono studiato per scrivere il mio documentario che prima o poi farò su Topolino se mi va perché è un bordello e ci voglio un sacco di soldi scendimi presente e una mano te la do volentieri grazie mille Tito però io mi sono sempre chiesto come sei arrivato al fumetto perché sei un autore comunque riconosciuto da tutti conosciuto da tutti però voglio capire come ti sei approcciato a questo medium ma in realtà fra l'altro faccio un piccolo un po' di pubblicità il 19 di maggio esce una cosa che si intitola L'uomo con la faccia in uomo per Feltrinelli saggistica non la mia collana non me ne suono e me ne canto da solo che è un manuale autobiografico di sceneggiatura il cui racconto anche rispondo anche alla domanda come è cominciato posso dire che sono una di quelle persone che dal bambino voleva fare una cosa l'ha fatta da grande cioè dal bambino volevo fare il fumettista ma siccome all'epoca non vi dico che poca forse tanto c'è Wikipedia e si pensava pensavamo tutti che per fare i fumetti bisognasse sapere disegnare io non sapevo disegnare una patata cioè disegnare una patata sembrava un sasso disegnare un sasso sembrava una patata anche questo racconta anche un triste aneddoto sul fatto che sia stato l'unico escluso una volta in classe fra tutti dove hanno disegnato un frutto dell'autunno o della primavera non mi ricordo più a me non mi ha fatto disegnare niente la maestra non ero capace di disegnare un'arancia ma che cazzo è sta storia mi sono messo piangere lungo le scale scendendo comunque questa cosa forse dopo questa disavventura dei frutti che non sapevo disegnare ho meditato sul fatto che non potessi fare i fumetti ho pensato a rifare qualcos'altro tipo l'astronauta e quindi in realtà ho fatto tante cose ho iniziato facendo una fanzine negli anni 80 con Matteo Bibianchi poi autore televisivo di romanzi editor gigantesco che è l'equivalente di questo che fai tu cioè all'epoca si facevano queste cose con le fotocopie le cassette allegate no veramente molto amatoriale molto punk era super punk cioè che rendevamo non mi ricordo che cifra che si chiama anestesia totale che comunque si è fatta super notare tant'è che poi Matteo è finito a fare una roba sono finito a lavorare a radio DJ anzi in realtà più a DJ television era un'altra cosa che era DJ show che era il magazine collegato a quella roba lì e sono fatto il giornalismo però non mi ero dimenticato dell'amore dei fumetti come sono fatto vabbè per farla corta tutti quegli anni 80 in cui a Milano voi ragazzi non lo sapete alla fine anni 80 sembrava che i soldi crescessero sugli alberi o giù di lì no doveva allungare una mano quindi dice facciamo una rivista cosa che successivamente facciamo una rivista sul nuovo metal che ci sono in Nirvana ok facciamo questa rivista e ho fondato Ard una rivista che era leggendaria dell'epoca e poi a un certo punto è venuto fuori che abbiamo firmato un contratto con delle scritte piccoline sotto tutti quanti per cui adesso cioè tutto è collato di colpo e sono finito a lavorare in un'agenzia di servizi editoriali che faceva dei lavori anche per la Disney cioè era l'epoca dei servizi editoriali per cui le grandi case editrici non riuscirono a produrre tutto il soldo erano fuori del lavoro ma qualificato a un certo punto siccome già lavoravo tipo 24 ore al giorno ma avevo bisogno di aggotondare perché il tenore di vita che avevo un po' in posto non riuscivo più a tenerlo allora il titolare di questa agenzia mi sa ma perché non provi a scrivere visto che qualcosina il fumetto avevo fatto perché non provi a proporre un soggetto per Topolino magari lo puoi scrivere di notte durante il fine settimana a quei pochi che avevo senza lavoro e quindi ho proposto cioè 28 anni proprio sai per le cose della vita quindi c'è sempre ti tuffi che puoi imparare a notare ho proposto un soggetto che mi è uno fra l'altro con protagonista Pluto ma in realtà il protagonista era Topolino ma era troppo timido cioè mi vergognavo di usare Topolino ma era così importante che quindi si intitolava il soggetto originale Pluto il campione terrestre ma in realtà il protagonista era assolutamente Topolino infatti il caporedattore ha detto te lo accetto ma cambio il titolo l'ha dato a disegnare subito a Massimo De Vita così di colpo la storia che avevo scritto ma è andata proprio così cioè da terza che ho scritto la disegnata Cavazzano la seconda Scarpa Cavazzano Scarpa madonna ho fatto ho fatto questa infilata De Vita Scarpa e Cavazzano madonna migliori cioè proprio ma io non ho capito come se guarda cioè ti devo dire la verità io adesso quando ci penso non ho capito come sia possibile perché io faccio corsi di sceneggiatura ho scritto manuali ed è un casino ti assicuro e lì proprio non lo so eri bravo semplicemente no? no cioè io ho preso una sceneggiatura non sapevo come sceneggiare mi sono fatto dare delle sceneggiature altui l'ho guardata e ho detto ah si fa così ma è come dire cioè devi guidare uno shuttle fammi vedere ah si si fa così cioè capito devi fare una cioè io non so con che spacciataggine spero che le abbiano buttate via tutte quelle robe lì che so cosa c'è scritto forse la benevolenza di questi grandi insegnatori sarà stata non lo so ma l'hai visto forse hai memorizzato subito il mestiere in realtà ho detto ah si fa così boh facciamo questa roba qua e poi vabbè sono stata una grande galoppata nel giro di pochi anni sono passato a fare questa cosa di notte nei ritagli di tempo che poi è diventato un lavoro a tempo pieno poi c'è stata una cosa molto bella per cui una persona che ringrazio sempre che è Daniele Brolli un grande esperto di scritture ha proposto Leinaudi poi ho preso fotocopiato tipo una 200 pagine di mia storia di Topolino ha proposto Leinaudi di fare un volume con queste storie e non era mai stato fatto in tutto il mondo una antologia disneyana dedicata non a un disegnatore ma a un sceneggiatore mai e Leinaudi ha fatto questa cosa Topolino Noire storie di Tito Faraci quindi mi sono trovato impresamente da autore di fumetto popolare cosa di cui sono fiero tutti i giorni della mia vita a passare di fronte a una libreria una mattina a vedere che la libreria è piena di cose leggere poi da lì ci sono stati Lupo Alberto e Diabolic praticamente contemporaneamente poi Dylan Dog e tutte le cose Bonelli Tex è stata tutta una lunghissima cavalcata che ha avuto dei momenti travolgenti che sono stati bellissimi ha avuto dei momenti di cui un pochino magari mi pento adesso lo dico tranquillamente e devo anche molto ossio in questo senso se volete poi ve lo racconto in cui mi ero sì certo mi ero molto seduto cioè il periodo in cui stavo facendo i fumetti al top però non è che era diventato un impiegato però voglio dire non cercavo più niente mi sembrava di aver già dato tutto e non dovevo mai rimettere in gioco e poi devo dire che l'incontro con Sio attorno al 2014 poi in realtà il primo libro abbiamo fatto il 2016 è stato veramente una svolta perché ho trovato un ragazzo intelligentissimo pieno di energia pieno di voglia di fare delle cose rivoluzionari che veniva a dire io mi sono ispirato a te cioè le cose che facevo con il dito Polino con Pick Up io mi sono sentito in colpa perché cioè lui veniva a dirmi bisogna spaccare il mondo fare delle cose rivoluzionari e in quel momento mi ero seduto allora ho detto vabbè allora buttiamo l'aria al tavolo nuovamente e da lì ero i due libri con Sio la curatela della collana Veltinelli Comics le cose con tutti gli autori che ho trovato e tutto anche questo ripropormi anche in una maniera nuova nel mondo del fumetto ecco ti ho raccontato una vita in 5 minuti no no ma sei stato bravissimo no più che altro è bello perché sia in un certo senso è stata una voce esterna che ti ha fatto capire che c'era anche altro che potevi fare e che potevi affrontare ma infatti a proposito di questo ti hai dichiarato che non esiste vena creativa senza ombre a proposito di sedersi un attimo ma cosa vuol dire in che senso cavolo sei formidabile mi tiri fuori ringrazio Roberto Scoranese quella volta lì mi ha fatto un'intervista di tipo due ore per un'ora circa per un'ora circa mi faceva domanda a cui rispondevo buono questo drink oggi è un po' umido ma secondo me domani il tempo migliora no poi alla fine è riuscito a scardinarmi e ho tirato fuori tipo 30 anni che vado in analisi che è vero cioè come dice Woody Allen dopo questo c'è solo Lourdes è vero che cioè non è che adesso tirate fuori violini ma senza entrare i dettagli sono uno che alla fine ha avuto un pezzo di vita lungo che per fortuna adesso è minore della metà della vita che ho che non è andato non è andato molto molto bene diciamo quando ero bambino ragazzino così e in quel periodo lì effettivamente i fumetti per me erano davvero non solo un sogno ma anche come dire una specie di guida cioè io quando vedevo leggevo i fumetti dei supereroi davvero di Spider-Man doveva salvare il mondo ma doveva salvare se stesso da questioni piccolissime personali da vicende umane cioè mi sembravano a me capito dicevo non ero più stupito dal fatto che affrontassero Galactus ero stupito dalle avventure che vivevano cioè capito io capivo che per salvare il mondo devi salvare un po' te stesso che ce la puoi fare cioè io ho quei personaggi lì veramente quelli della Marvel lo dico mi commuovo sempre mi hanno insegnato quella roba lì quella tenacia no? quella cosa che devi cominciare a salvare qualcuno attorno a te cioè nessuno può salvare il mondo da solo ma qualcuno deve cominciare da qualche parte che puoi trasformare la sofferenza che hai dentro in una forza e però io non penso che sia indispensabile avere una vita una parte di vita in cui si è sofferto per fare delle produzioni artistiche di valore assolutamente non è necessario però penso che alla fine diventano una per chi riesce ho avuto fortuna a un certo punto dopo magari le cose sfortunate ho avuto della fortuna per chi riesce come dire a trasformare questa cosa a pensare che può vincere da diventare lui stesso come i personaggi che scrive che traggono dalle sventure la propria forza posso diventare un motore della creatività che ti dura per sempre così vabbè di questi argomenti chi mi conosce sa che non parlo mai neanche al bancone del VAR tipo le due del mattino quindi hai già vinto una battaglia gigantesca non so cosa mi sta succedendo in questi giorni nego tutto quello che ho per me sei in un periodo zen hai le preferite no vabbè usavi il fumetto in maniera catartica che è una cosa sempre molto interessante pensavo che potevo imparare da quei personaggi di qualcosa eh ma invece per quanto riguarda chi disegnava chi realizzava quei personaggi hai mai conosciuto qualcuno che ti ha fatto crescere nel mondo del fumetto ti ha ispirato poi di persona magari un incontro che ti ha folgorato beh ne ho avuti tanti sono stato molto fortunato dove fare una carrellata di personaggi e di persone un po' l'ho fatta nel libro che ho scritto non vi ripeto il titolo così non sembra ma lo puoi farlo tranquillamente no no vabbè vabbè per dire però quello con Giorgio Cavazzano è stato un incontro fondamentale tra l'altro poi dico sempre che questa cosa è un momento di enorme vanità e me lo perdonerete perché quando io ho incontrato Giorgio lui aveva una cinquantina d'anni io ero un ragazzetto e lui a un certo punto mi ha detto ti ringrazio tantissimo ma per me era un idolo cioè lui era la perfezione totale ti ringrazio tantissimo perché mi ero un po' seduto e avevo bisogno di incontrare una persona come te dopo quando io ho incontrato Giorgio io avevo una cinquantina d'anni e lui era un ragazzetto e io gli ho detto guarda non voglio paragonarmi assolutamente a Cavazzano però ho capito cosa succede no quando ho capito incontri una persona che cioè giovane che ti fa ricordare come eri e dici beh forse si può ancora fare e comunque Cavazzano per me è stato è stato il mio scopritore quello che non solo mi ha lanciato in Disney ma poi mi ha presentato in Bonelli era con Sivero Lupo Alberto con Diabolic Mario Gomboli poi il Fredo Castelli per me è stato molto importante mi sento molto molto legato a lui grande c'è gente addirittura che mi dice quando ti sento parlare mi sembra sentire parlare io sono legato a lui perché entrambi abbiamo una grande passione per l'umorismo per l'avventura quando facciamo avventura diciamo che parli a mia fare l'umorismo quando facciamo l'avventura che parli a mia fare l'avventura entrambi facciamo sempre le scelte che ci piacciono di più magari a discapito di quelle più convenienti quindi con Alfredo per me lo ritengo non glielo dico mai dovrei dirglielo più spesso lo ritengo veramente il mio maestro poi Luciana Giussani ho avuto la fruttura di lavorare con lei era veramente meravigliosa cioè come nelle storie di Diabolic cioè io telefonavo mi rispondeva il suo maggiordomo andiamoci conto la signora sta bevendo il tè immaginavo che ha bevuto il tè e lui beveva quello giusto quello davanti quello con dentro il cianuo e tanti però vabbè insomma adesso sto facendo un pochino di tri e poi vabbè su un posto importante l'ha avuto per me Sergio Bonelli di cui posso dire di essere stato anche se io avevo pochissime che gli dava del lei cioè misteriosamente erano amici vabbè immagino rispetto è leggendario diciamo a tutte le azioni però eravamo amici veramente andavamo a cena assieme andavamo a quaranzo ci facevamo dei regali ci confidavamo delle cose che rimangono non ho mai cancellato ma avevo il suo numero di casa tra l'altro cioè proprio quello di casa non dell'Ufio non l'ho mai cancellato ogni tanto sto dico che scorola che scorola ubica salta fuori e dico porca misera cioè avrebbe voglia di telefonare e di sentire cosa succede probabilmente sicuramente nulla però questo mestiere è fatto di incontri di incontri con maestri e a volte anche incontri con persone che sono molto più giovani di te e io concluderei ma l'elenco sarebbe pieno di tante persone con una persona a cui voglio tantissimo bene infatti andiamo a Parigi dopo domani presentare l'uscita del suo libro a Parigi che io sento come una figlia in più che è Fumetti Buzzi Giuseppe Figlioli Signorelli che veramente io per lei questo rapporto anche paterno proprio per me io sono fiero di lei ogni sua vittoria una sua vittoria ogni suo problema è un problema che mi faccio io abbiamo questo rapporto così però l'elenco sarebbe veramente lungo e la mia storia è stata fatta ad incontri ecco Tito io ti voglio fare una domanda un po' più specifica riguardo il presente perché te hai attraversato come ci hai raccontato tutte le fasi del fumetto tutte insomma comunque le più importanti hai conosciuto tanti maestri hai lavorato per tantissime case editrici per tantissimi personaggi che hanno fatto la storia del fumetto italiano e ultimamente non so se hai notato penso di sì che i manga vanno per la maggiore soprattutto tra i giovani scalano le classifiche sono un fenomeno culturale enorme secondo te perché il fumetto giapponese ultimamente più di altre epoche sta imperversando così tanto beh il fumetto sempre ha bisogno di fase di fumetto popolare che è una accezione nobilissima importantissima che sappiano raccontare il tempo e parlare soprattutto ai giovani e io ritengo che quando sei giovane hai le idee migliori della tua vita io stesso ho il campo di quelle ancora adesso no davvero non sto scherzando no no ti credo alcune mie ossessioni nelle mie storie sono proprio cose nate quando ero molto molto giovane che riescono a raccogliere lo spirito di un'epoca allora intanto i manga dagli anni 90 in Italia hanno sempre avuto successo poi hanno trovato canali di tipo molto diverso che sono stati i festival le fumetterie poi a un certo punto per motivi anche il covid ha giocato la sua nelle librerie hanno trovato mentre le fumetterie magari erano un po' chiuse le edicole erano quello che era eccetera nelle librerie hanno trovato uno spazio giusto e nelle librerie anche su Amazon il pubblico dei manga anche in un'epoca in cui c'erano pochissimi festival come è stato 2020 in parte del 2021 non andavano più con la valigia a fare il pieno a lucca che non c'era stata hanno cominciato a comprarli anche lì quindi proprio c'era un pubblico che c'era già che si è spostato da quelle parti naturalmente è un concorso di meriti non di colpa assolutamente di meriti perché anche canali stream tipo Netflix hanno proposto degli anime che comunque hanno riverberato anche con le vendite dei fumetti tutto un insieme di cose io vedo nel successo dei manga una nuova ondata di successo che c'è sempre stata è sempre meno in giovamento c'è sempre moltissimo da imparare penso che siano fumetti spesso di grandissima qualità ovviamente sono un arcipelago mi fanno molto ridere e lì veramente sono dei boomer quelli che dicono cioè i tizi che quando mi sento non dico il nome però in intervista e si mettono fare un'analisi dei manga come se tutti i manga fossero violenti romantici no ci trovi quello che vuoi sono un arcipelago vasto vabbè dai Veltroni l'ha fatto quell'articolo l'ho uscito io perché sì l'ho letto anche in live era un articolo imbarazzante posso dirlo sarebbe dire che i romanzi sono gialli ecco Tito mi hai detto una cosa che mi interessa secondo te il mercato italiano cosa dovrebbe copiare tra virgolette dal mercato giapponese che lezioni dovrebbe imparare forse ritrovare un'attitudine popolare rivolta ai giovani noi noi l'avevamo fatto e posso dirti adesso ai miei tempi però permettimelo tu c'eri e puoi testimoniarlo devo dire che i tempi di questa new Disney che ormai ha 30 anni accidenti sai che sto parlando 25 si dai di PK mi chiamavano il Mr. Invergany devo dire che noi guardavamo i manga fra l'altro voglio dire perché tutti fanno in fretta a dire che guardavamo i supereroi e la Marvel ma guardavamo moltissimo i manga mi ricordo bene Charbone io Artibani Enna e i manga guardavamo come mi ricordo che la costruzione di certe pagine che facevo in certe storie con proprio veramente come costruivo la pagina con l'evento centrale grosso le vignettine a tono veramente guardavo i manga con grandissima attenzione quindi noi all'epoca avevamo cercato di fare una cosa che il fumetto popolare italiano cioè cercare di avere un fumetto popolare che è rivolto a un pubblico giovane che sa accogliere in maniera sincera quali sono le istanze i desideri le sofferenze di un pubblico giovane per farlo ovviamente servono gli autori giovani anche questo dico perché lo avevamo cioè voglio dire non era non c'era nessuna cioè io Francesco Claudio Claudio Charbone cioè voglio dire eravamo tutti eravamo anche giovani quelle cose le guardavamo cioè tornavamo a casa guardavamo Cartoon Network cioè non è che dovevamo far fin fare delle indagini di mercato quindi bisognerebbe avere fiducia come io la ho come curatore di collana questo lo dico sinceramente magari gli eroi le faccio e le faccio però bisogna avere molta fiducia negli autori giovani moltissima lasciarli fare fidarsi e capire anche che quando sei giovane fai spesso le migliori cose che potrai fare nella tua vita quindi serve un fumetto popolare che sia capace di parlare a un pubblico giovane senza che questo venga con forza tua e questo deve venire in maniera naturale certo a me piacerebbe in questo possiamo essere aiuto noi autori un po' fagli un po' da maestri no ma certo perché poi spesso ci troviamo in posizioni anche privilegiate di comando di guida allora se decidi di affiancarti degli autori giovani forse stai facendo la mossa giusta impari tu aiuti dal punto di vista professionale ma impari anche tu e porti delle forze delle energie creative nuove che servono sarebbe bello un progetto del genere però c'è da dire che è un modo di vedere le cose no no secondo me è l'unico modo di vedere le cose però pensiero mio chiaramente e a quanto pare anche il tuo pensiero quindi ottimo e poi un'altra cosa che mi ha incuriosito perché è raro sentir dire un autore che ha fatto fumetti Disney questa roba hai detto che appartieni più a Topolinia che a Paperopoli e voglio capire perché perché tutti ovviamente ti fanno per i paperi e io sono uno dei pochi a tifare per Topolino che è l'amico delle guardie ma non è così non è l'amico delle guardie assolutamente anzi tipo Topolino giornalista queste qua dove si oppone veramente ai potenti allora io ho una mia teoria che è difficile anche da smentire però peraltro che per quanto ci siano dei paralleli grossi fra l'universo di Topolini e quello di Paperopoli in realtà Topolino e Paperino poi diventano un uomo comune entrambi e si assomigliano più di quanto possa sembrare non stupitevi ma è così il mondo dei paperi è dominato dai rapporti familiari cioè sono tutti parenti si frequentano fra parenti fortemente e questa è una cosa anche drammatica cioè nel senso che tu devi sentire il peso della tua parentela dei doveri di questo rapporto forte perché alla fine Paperone e Paperino è come fosse un rapporto fra padre e figlio cioè sia chiaro c'è quindi il peso di essere indegni di un padre che comunque non riesce a dimostrarti il tuo amore quindi è pieno di elementi pensa è così comico ma in realtà è pieno di elementi molto drammatici il mondo dei topi è un mondo dove le parentele sono pochissime veramente pochissime invece dominato dall'amicizia e dall'amore Pippo è amico di Topolino che è amico di Brasettoni che è amico di Orazio di Clarabella che sono finanziati fra di loro è nemico di Gambadilegno però nemico che dipende molto da questa amicizia sono tutti amici quindi a Topolino ci si sceglie a Topolino è tutto dominato dall'amicizia e dall'amore dalla scelta dalla difficoltà quindi da questo legame anche che potrebbe dissolversi io non potrei mai cominciare una storia dicendo nel soggetto e nella scelgiatura c'è Paperino che va fuori città a trovare un vecchio amico in una cittadina fuori Paperopoli io non mi dico ma che cazzo è se invece il vecchio amico di Paperino ma dove se invece cominciasse una storia con Topolino va fuori Topolini a incontrare un vecchio amico mi direbbero sì vabbè che è un ottimo inizio cioè capito è questa cosa che mi fa allora a me almeno quando ero più giovane ero molto più interessato ai rapporti che erano scelti forse perché poi in realtà io sono un po' uno scappato di casa un po' così quindi ero molto più interessato all'amicizia all'amore cioè ai rapporti con cui ti scegli ho scappato di casa perché? no nel senso che sono uno che è andato a vivere da solo molto presto cioè quelle robe di Del Nero e ti porti dentro e poi invece devo dirti che però negli ultimi tempi quella cosa che anche l'intervista che hai cortesemente letto però l'ho detto che negli ultimi tempi mi sento mi sento un pochino attirato l'ultima storia che ho scritto per Disney è una storia di paperone cioè di paperina quindi sento anche un pochino come dire sono diventato un padre con dei figli adulti non grandi ma proprio adulti che vivono fuori di casa quindi porca miseria comincio a sentire quella roba lì capito? quindi ultimamente questa cosa della difficoltà di mantenere un legame familiare con delle persone che diventano adulte che sono diverse da te che sono indipendenti mi colpisce quindi sarà forse per questo che ultimamente quando scrivo storie Disney ogni tanto tradisco il mondo di topolini e volentieri racconto quello di paperoper sono riuscito a far sembrare tristissime le storie di topolini di Faberino non è vero non è vero in realtà ti stavo dicendo sì però secondo me con accezione positiva nel senso che il tuo topolino era un topolino diverso dagli altri cioè era un topolino umano ed è quello che mi ha sempre attirato cioè il primo topolino cinematografico era Walt Disney non era topolino era Walt Disney che riponeva nel personaggio tutte le sue follie anarchiche il suo spirito campagnolo ma 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 sì sì bravo l'hai beccato perché lui viveva in una specie di suburbia sì a Marzellin abitava in una fattoria a Marzellin col padre che lo picchiava e tirava il colo alle galline cioè veramente ma guarda la storia della guerra con il gatto Nip praticamente il topolino è un attaccabriga cioè era un tipo che lo trovavi in giro la mattina dopo ti svegliavi un redneck che spaccava tutto non gliene fregava niente era uno a cui non prestare soldi non uscirci la sera perché la mattina dopo rischiava di trovarti con le guardie che ti portavano via quindi questa è la cosa e penso che sia rimasto nel DNA suo sia rimasto questa specie di ribellione il problema è che sono state fatte adesso io ho grandissima stima della tradizione della Disney italiana però sono state fatte anche parecchie storie soprattutto negli anni 80 devo dire in cui Topolino era diventato il perfettino prima della classe poi molti erano gialli quello era Godfreyson colpa sua maledetto no non è quello il punto è che se tu fai dei gialli sono faticosi da fare i gialli devi impegnarti tantissimo se tu te la cavi con delle scorciatori alla fine il tuo eroe risolve i casi scroccando un dito cioè è veramente perfettino ma scrivere dei gialli anche facci dei noir magari richiede una costruzione di trama complicata in cui devi mettere dell'ironia non puoi fare il personaggio sempre vincente devi anche prendere delle lignate cioè perché poi non era neanche un personaggio da misteri Topolino è un personaggio proprio da noir da story criminali quindi è anche uno che deve prendersi delle mazzate e invece trasportarlo in un tipo di cogiallo in cui ci sono degli indiziati poi un colpevole poi un colpevole è sempre sembrare topolino vincitore tante cose gli sono toccate delle angherie e ancora adesso faccio delle discussioni terrificanti con i nemici di Topolino che poi scopo che non l'hanno mai letto cioè quindi lo schippano compro Topolino e vanno direttamente ai paperi è un peccato non lo leggo neanche ma lì è l'amico delle guardie e tutte queste cose non è vero è amico di una guardia di basettori sì ma poi io vabbè anche ultimamente questa cosa però che hai detto te l'hanno capita durante cioè nell'attuale storia editoriale della rivista perché Topolino è stato protagonista di appunto noir veri con macchia nera che lo metteva in discussione gli faceva perdere la memoria insomma c'erano delle storie veramente interessanti che approfondivano il loro rapporto sembrava un rapporto veramente Batman Joker fighissimo secondo me no ma come si non l'ho sempre notato perché in realtà Topolino questa è una cosa per cui i veri appassionati disneyani mi direbbero no ma non è esattamente così però fate conto che è così Topolino e Gambaneo nascono nella stessa storia lo stesso cartone di matto che Steamboat Willie del novembre del 1928 cioè sono già lì assieme cioè su questo battello che percorre Mississippi dove c'è Topolino vorrei sottolineare tutto nero che fa il mozzo io non ho detto niente cioè e c'è e c'è e c'è gambà di legno no? cominciano subito a combattersi a prendersi a legna cioè quindi sono sempre stati nemici ma puoi essere nemico per una persona per tutta la vita cioè una persona da cui dipende così tanto per cui tutte le tue vittorie o gran parte delle tue vittorie sono merito delle sue sconfitte tra i due non si deve creare un rapporto di dipendenza ecco questa era la roba su cui ho costruito molto delle mie storie degli anni 90 sul fatto che pur non essendo amici abbiano bisogno uno dell'altro bellissimo si si è un rapporto fantastico ma anche appunto il rapporto tra lui e Macchia Nera che Macchia Nera di fatto ha l'aspetto di Walt Disney no? è il suo creatore quindi in un certo senso molti hanno giocato proprio su questa su questo linguaggio beh fighissimo grazie perché veramente mi erano rotto coglioni sempre tutte le volte di sentirvi strattare le topolino dopo che veramente ha ha inventato un sacco di robe non solo nel cinema ma anche nel fumetto e invece com'è stato il salto da fumettista a curatore per Feltrinelli Comics cioè vabbè ma a parte le responsabilità no? cioè com'è cambiata la tua vita e il tuo lavoro? ma anche lì cioè è l'ennesimo tuffo prima di sapere nuotare cioè no in realtà non è neanche vero perché poi è una roba che magari di cui parlo poco ma insomma nel 2004 assieme a Marco Schiavone abbiamo rifondato Edizioni BD pochi anni dopo abbiamo fondato J-pop perciò dall'altra parte c'ero stato in vari modi è successo un giorno di maggio che Gianluca Foglia direttore editoriale dell'intero gruppo Feltrinelli mi ha chiamato in casa editrice era già uscito il primo libro mio consiglio che è andato piuttosto bene è andato in grossifica erano tutti molto contenti e mi ha detto vorremmo aprire una linea di comics di Gaffin Novel e avrei pensato di affidartela come curatore e io dentro di me ho pensato questo è un pasticcio colossale di tigero con tutti e poi mi metterò contro tutte le caratteristiche con cui lavoro questo è un disastro digli di no e mentre tutto dentro di me stavo facendo queste riflessioni la mia voce sta dicendo sì va bene cominciamo subito il logo dovrebbe essere fatto così a non farmi vedere ci vediamo lunedì cioè quindi proprio veramente non potevo registrare questa cosa io dico sempre che è stato che è ancora Fettinand Comics è la mia grande opera di restituzione nel senso che il fumetto mi ha dato tantissimo mi ha permesso di passare la vita con qualcuno che mi paga per fare qualcosa che pagherei per fare spero che nessuno mio editore stia vedendo questa intervista editori è una battuta l'altra mia regola è che lavoro solo per divertirmi ma se non mi pagano non mi diverto quindi insomma questo un pochino va a confessare quanto ho appena detto no la mia opera di restituzione cioè con la confezione di comic cerco di restituire al fumetto un po' di quello che il fumetto ha dato a me ma con l'ana che poi è anche stata un po' inaspettata perché molti conoscendo quello che facevo io pensavano che magari avrei radunato i vecchi amici no? avrei usato le conoscenze avrei fatto un fumetto super popolare invece no ho pensato quindi di fare una cosa che fosse nella linea di Feltinelli quindi anche un fumetto militante un fumetto che andasse a raccontare la società di oggi che usasse l'umorismo il graffio di giornalismo andare a trovare nuovi talenti poi quando è un marchio con i Feltinelli perché devi aggiungere un marchio così pesante e andare anche a cercare l'autore famosissimo magari puoi usare un marchio così pesante per valorizzare l'autore meno noto questa è l'operazione grossa cioè andare a trovare un autore che non è ancora famoso e gli butti in Feltinelli di fianco e lo aiuti no non fai carico su carico cerchi di fare una costruzione del genere non sempre ovviamente perché poi ci sono autori che io stimo tantissimo di primissimo livello che ho voluto a mio fianco di cui sono felicissimo ho fatto il nome soltanto di due ma sono tanti ma due devo dire veramente sono fiero perché sono dei grandi amici e dei grandi autori di avere vicino a me che sono le Ortolani e Milo Manare insomma senza nulla levare agli altri orgoglioso certo certo e invece qualche autore giovane che hai lanciato su Feltinelli Comics di cui sei orgoglioso? Beh Fumetti Butti è stata una cosa colossale di cui sono molto molto felice sono estremamente soddisfatto di quello che sta facendo quasi rosso che fa altro anche lui proprio l'ho beccato cioè lo conoscevo per vedere cosa ho visto su Instagram poi una sera l'ho beccato al bar dove vado sempre ciao mici del secco era lì in un gruppo che era quello più timido in fondo ma chi sei tu cosa stai facendo? Ah no ma guarda che io ti conosco ho detto non è che stai facendo un ogra fin nove gli ho detto ma vuoi qualcosa non è che ce l'hai detto in quel iPad e poi gli ho detto non funziona poi la mattina dopo l'ho chiamato e ho detto no no ci avevo pensato funziona facciamo un libro quindi il baffo Giulio Mosca cioè va bene era già notissimo però stava prendendo una strada secondo me senza nulla a togliere agli editori per cui lavoravano stava prendendo la strada migliore per lui perciò in un certo senso gli ho fatto fare un passo indietro e penso almeno un paio in avanti quindi di questo sono estremamente estremamente felice ma ovviamente sono te la badessa per quanto adesso un po' non riesco che si sia un po' clissato sono felice dei due libri che gli ho fatto fare cioè hanno anche magari autori famosi in altri ambiti che ho portato su questa strada insomma ovviamente sono tanti e tanti arriveranno ieri non dico il nome perché cioè ero lì che guardavo su Instagram ho visto una cosa di un tizio che fra l'altro cioè voglio dire non è che lo seguivano un miliardo di persone stiamo parlando di 12 mila giù di lì che non è tantissimo non è che e però gli ho scritto non è che l'idea per fare un libro lui mi ha risposto subito e chissà magari questa cosa salta fuori ma anche quando ho preso Fumetti Brutti aveva 4.000 follower cioè voglio dire non era proprio aveva cominciato in aprile e non è che l'ho presa gli ho detto fai un libro per noi perché hai tantissimo perché ho visto subito in lei qualcosa di gigantesco e questo era così grosso che non mi è sfuggito quindi sono fiero di tantissimi di questi autori quindi comunque sei sempre sei sempre in giro cioè ti guardi sempre intorno non ti chiudi nessuna porta anche sui social per arricchire il tuo parco artisti ecco in Feltrinelli Comics è una cosa molto positiva perché tanti invece si chiudono a riccio e si siedono come hai detto te no? ci deve essere sempre una quota in una collana come assolutamente questa non è una critica per chi fa altre scelte perché io ho anche le spalle larghe cioè voglio dire avere Feltrinelli dietro certamente mi dà delle possibilità però se hai questa possibilità che ho io che magari era altrove una quota di sperimentazione di rischio ce la devi mettere altrimenti non stai lavorando bene cioè vuol dire magari devi sparare dieci colpi per beccarne uno che abbia un successo grosso ma sono buoni anche gli altri nove davvero eh perché dimostrano che lo puoi fare e come io vengo dal mondo della musica per la musica ha creato anche il mio immaginario la musica allora per me la musica io poi ho iniziato a sentire la musica all'inizio degli 80 per me i miei idoli non era solo questione delle band era anche la mia idea del discografico era il tizio che andava in giro nei locali che erano cantine a sentire gruppi che avevano fatto una cassetta e gli davano l'offerta possibilità di fare un contratto e magari ne metteva sotto contratto dieci uno aveva successo nove no però intanto facevano anche un bel disco lo diceva anche Frank Zappa questa in una famosa intervista contro i discografici esatto quel discografici mi piace pensare di poter fare il curatore di collana con la mentalità di quel discografico o come i produttori di quegli anni anche posso dire che la gioia che vedi negli occhi di un autore giovane quando gli dici voglio farti fare un libro ti vanno contratto è una cosa bellissima immagino cioè è una roba che ti vai letto felice ma e Tito ma un giovane fumettista che vuole disegnare sceneggiare o un autore completo cosa deve fare adesso per lavorare non solo con Feltrinelli Comics ma col fumetto in generale dipende da cosa fa ovviamente nel campo che a me interessa moltissimo che è quello del fumetto umoristico umoristico è capito in che senso anche del nonsense dell'esperimentazione grafica devo dire che i canali social funzionano bene per esempio Instagram ha una situazione giusta quelle quattro vignette vanno bene quindi può cominciare benissimo da quello è una cosa che ai miei tempi non c'era avrei detto fate una fanzina fate un'autoproduzione secondo me anche le autoproduzioni sono un buon canale io quando vado ai festival dove c'è il settore self-area quelle robe lì mi faccio sempre un giro e tiro sempre su delle cose e poi mi porto a casa e mi studio io ci ho scoperto Mamma Aiuto così erano veramente nel mezzo c'è della gente incredibile Mamma Aiuto vuol dire Sara Menetti ha fatto per noi due libri anzi molto molto belli perché quelli di Mamma Aiuto li seguivo e hanno fatto un vicino pallone per me Guarnaccia per me Dio Guarnaccia ha fatto un bellissimo libro per noi quindi proprio per dirti Mamma Aiuto li ho guardati con grande attenzione anche in questo senso sono il discografico della casa discografica grossa che tiene d'occhio quelle piccole cerco un affetto non rubo poi gli autori possono continuare a fare anche dischi per noi quindi direi sicuramente usare bene la rete avere una partecipazione assidua ai festival è anche simpatica e discreta perché l'autore che mentre sono lì che mangio un panino in piedi dietro lo stand con 10.000 persone mi chiede posso farti vedere il mio portfoglio non è strategico diciamo così quello che mi vede magari appoggiato al bancone con una birra che sono di tranquillo si siede e dice sentito Faraci si mi fa piacere conoscerti mi piaceva un stato e un altro cosa ma forse non è il momento mi fa venire voglia e dirgli è il momento certo cercare anche un pochino ci siamo capiti non dico con grande affetto però insomma gli occhi li tengo sempre aperti ovviamente la rete è fornito è sicuramente la cosa che ai miei tempi erano le fanzine però con una circolazione maggiore e pensate che c'è sempre una persona non sono un caso strano io anzi non mi prendo meriti eccessivi ci sono un sacco di persone come me in giro per il mondo che di lavoro cercano autori anche nuovi autori e passano magari un pezzo della loro giornata anche solo mentre vanno in metropolitana o in bicicletta sono in taxi a scartabellare su Instagram venendo 60 fori in qualcosa di interessante quindi sappiate che là fuori c'è qualcuno che è anche andato da pesca e sta vedendo cosa viene a galla quindi fate in maniera di essere da quelle parti sì Tito io veramente ti ringrazio tantissimo perché è stata un'intervista piena di spunti piena di consigli piena di retroscena e secondo me questa ultima parte può servire effettivamente a tanti autori giovani o emergenti o tanti nuovi talenti che si nascondono a magari farsi coraggio a venire da te ma anche da altri editori perché no ma non siete tanti io non pensavo questa cosa ma poi scopro sempre adesso lo dico su pubblica piazza che c'è gente che è in soggezione ma mi chiedo perché venite a tirarvi per la giacchetta se siete in centro magari divento brusco e scontroso ma in realtà sono estremamente socievole lo sai anche tu dai certo come no ho abitrato il vostro incontro su Green con grande piacere quindi sì sì fu un bel momento fu un bel momento ma fu anche mi ricordo un bel comicon per me in generale bello me l'ho divertito tantissimo quella volta mi l'ho divertito poi ero con tuono figurati quindi era tuono comunque tu sia ti vogliamo bene vabbè lasciamo perdere va comunque e Tito io davvero ti ringrazio ti abbraccio forte ti auguro il meglio per il tuo lavoro di autore per il tuo lavoro di creatore di musica è stata una chiacchierata bellissima con una persona che ne sapeva che ne sa grazie mille Tito ringrazio che hai ascoltato vi voglio bene sono tantissimi quindi sono contento siete tanti allora vi voglio bene in bocca al lupo a tutti non bevete la droga mischiata bene se non metto a buber ci deve essere quindi certo non fate uso di alcolici mi raccomando grazie Tito veramente buon lavoro ciao ciao